Gli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un 49enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nel rione Sant'Anna, imboccando stradine poco illuminate. Successivamente il 49enne ha riposto qualcosa all'interno della parte superiore di un palo in acciaio in via Giusti. Immediatamente bloccato dagli agenti è scattato il contestuale controllo a suo carico. All'interno della cavità del palo i poliziotti hanno rinvenuto 10 involucri in cellofan contenenti eroina. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.